Buongiorno ai nostri amici in visione e all'ascolto di una nuova puntata di SOS Coronavirus, la regione in ripartenza. Un saluto al nostro ospite, l'assessore Guido Quintino Liris, assessore allo sport e al bilancio e non solo. Buongiorno, assessore. Ben trovati. Bene, il mondo dello sport abruzzese, assessore, attendeva con ansia, con impazienza questo momento della ripartenza dopo due mesi di lockdown rigido, anche se è stata una ripresa all'insegno della prudenza, con l'adozione di tutte le misure di sicurezza perché ovviamente bisogna tutelare la salute, questa è la priorità. Che situazione stiamo vivendo per quanto riguarda il movimento sportivo abruzzese? Sì, io con il ministro Spadafora, con tutto ciò che è l'entourage del ministro Spadafora, ministro allo sport, soprattutto tramite anche la mediazione di sport e salute, questo internazionale che ha trovato in particolar modo negli ultimi anni un grosso protagonismo, ma anche attraverso il vecchio Caro Coni, ho avuto delle interlocuzioni a livello nazionale provando a gestire, a dare il contributo sulla prima fase, in particolar modo non certo per le attività che si potessero portare a termine perché il lockdown, come dicevi bene, è stato talmente rigido che non dava possibilità, ma per ipotizzare quali fossero i danni che le società sportive ASD o SSD stessero quantomeno maturando in quei tempi. Ma quelle riflessioni, quell'ascolto, quel tipo di interlocuzione sarebbe stato ed è stato successivamente utile per la fase 2 o per la riprogrammazione della fase 2, laddove è di tutta evidenza partire bene, partire prima è stata una fatica abbastanza importante anche a costo di spiazzare qualche protagonista, qualche associazione, qualche società, qualche individuo, qualche centro sportivo, ma è stato tutto frutto di un'interlocuzione molto fervida con le federazioni, con le associazioni, con gli enti di promozione sportiva. Gli ultimi 15-20 giorni non ho fatto altro per quanto riguarda l'ambito sportivo, ho ascoltato tantissimo, ho ascoltato le varie federazioni, ma anche gruppi organizzati che non fossero federazioni, che non fossero associazioni rappresentate nei consigli federali, laddove potessero certamente emergere delle indicazioni che magari potevano rivelarsi utili col tempo. Così quando si è arrivati all'ordinanza 52 ci si è arrivati non per caso, ci si è arrivati con un'attenta riflessione che chiaramente metteva in chiaro quali dovessero essere le misure di preservazione, di contenimento comunque del contagio e la compatibilità di queste misure con lo sport, in particolar modo lo sport individuale e questo per evidenti motivi. Siamo passati dall'ordinanza 50 che comunque dava un po' il là a una serie di attività, di attività sportive, attività motoria, anche se limitata al comune di residenza, alla 52 che chiaramente ha anticipato anche se vogliamo il decreto Conte, però questo step voi l'avete si è preparato per tempo attraverso un confronto con il CONI regionale e in modo tale, lavorando in sinergia con il CONI e non solo come ha detto giustamente lei, la 52 ha creato forse un po' di disorientamento in qualche cittadino, forse più di uno, ma poi si è chiarito, almeno si è chiarito in gran parte cosa si potesse e cosa non si potesse fare. Sì, la 52 ed era un provvedimento che mi ha visto firmatario, è stato un atto di grosso coraggio, ma ben studiato perché di fatto ha riaperto lo sport, lo sport anche a livello individuale, ma anche all'interno dei centri sportivi, laddove ci si muoveva veramente sul filo di lana rispetto al BPCM di Conte che teneva chiusi i centri sportivi e gli impianti sportivi. Che si è voluto cogliere? Che innanzitutto se una persona fa sport a livello individuale deve raggiungere il posto idoneo per fare sport e lo può fare con autonomia, con la propria macchina all'interno del territorio regionale, lo può fare facendo e portando avanti quegli sport che non hanno un impatto in termini di rischio coronavirus e sono quelli che in parte sono ormai anche catalogati dal Ministero dello Sport che fa riferimento anche a delle gradazioni, a delle misure di rischio e comunque a delle misure anche oggettive. Quanto ai centri sportivi si è fatto riferimento non all'aria apertura evidentemente dei centri di aggregazione delle situazioni comuni, tantomeno delle docce, spogliatoi, bar, clubhouse ed altro, ma abbiamo fatto emergere il campo da tennis per esempio come un parco attrezzato, come un ambito attrezzato all'interno del centro sportivo, quindi aperto il quale non significava aver aperto il centro sportivo, pertanto il centro sportivo rimaneva chiuso così come significato di un ambito associativo e quindi di assembramento e quindi di rischio di contagio. Ma se due persone con la loro sacca senza farsi la doccia vanno a giocare a tennis e quindi garantisce 22-23 metri di distanza, chiaramente stiamo parlando del singolo e non certo del doppio, di due persone che si allenano o che comunque fanno un match, il rischio del contagio è prossimo allo zero. Certamente vanno rispettate tutta una serie di situazioni che limitano il momento dell'incontro, dell'incrocio tra persone, quindi prenotazioni, distanza di tempo tra quelli che entrano e quelli che escono, quindi una certa di regolamentazione. Anche l'utilizzo di guanti per evitare il contatto con la pallina, anche lì certamente, anche se la pallina, tutta questa capacità di contagio, lo dico da medico, non la riserva, certamente se c'è il contatto con liquidi corpore, in particolar modo con sudore, con saliva, ma insomma è abbastanza ed impatto zero. Io parto da un presupposto che nel momento in cui si decide di riaprire, si accetta minimamente anche il rischio di aumentare leggermente il contagio, è un po' un patto che si fa con noi stessi e con la nostra coscienza. Se noi allarghiamo un po' le maglie, perché l'alternativa sarebbe la morte civile, economica, sociale, certamente accettiamo anche un minimo rischio in più di contagio, perché azzerare il rischio di contagio quando si sono largate le maglie, quando la gente può riuscire, è assolutamente impossibile. Certamente poi c'è stata qualche polemica sull'uso dei dispositivi di protezione individuale mentre si fa sport, questo sembra ridicolo anche soltanto dirlo, un conto è se si parla dei guanti quando si gioca a golf o a tennis, un conto è se si parla di mascherina mentre si fa sport, chiaramente là c'è una produzione di anidride carbonica, addirittura diventa più dannoso avere la mascherina che prendere il coronavirus, secondo me, quindi non è un discorso. Ma vorrei dire che per quanto riguarda in particolar modo i motociclisti che hanno potuto riprendere a fare attività, per quanto riguarda il tennis siamo stati secondi soltanto alla Sicilia e in parte al Veneto e poi si sono adeguate tutto il resto le regioni, proprio perché stiamo parlando di una misura molto coraggiosa, ma ben pensata perché teneva conto anche delle indicazioni del Ministero dell'Interno che nel frattempo ha dato le sue linee guida in concertazione con il Ministro della Sport. A proposito invece dell'aspetto economico, come regione avete immagino lavorato per individuare delle risorse a fianco degli organi di rappresentanza dello sport regionale per magari sostenere non tanto lo sport professionistico, che è un mondo a parte, ma per affiancare e per rilanciare l'attività di base e poi c'è anche da considerare che anche lo sport cosiddetto minore comunque muove un indotto che rappresenta una buona fetta del PIL. Su questo magari ci sono delle novità, ci state lavorando, ci sono delle prospettive? Sì, ho approntato una proposta di legge che chiaramente è in condivisione in questo momento con la maggioranza, quindi giunta e consiglio, in questo momento soltanto di maggioranza, certamente sarà stessa tutto il resto del consiglio, così come è giusto che sia, e prevede tutta una serie di misure, anche questo è frutto di un'intensa attività di ascolto con le varie federazioni, i vari gruppi organizzati, le varie associazioni e società sportive di dilettanti. Ma questo proprio perché sappiamo che lo sport, in particolar modo le ASD e le SSD, sono un tessuto in particolar modo sociale, un ammortizzatore sociale, in particolar modo nelle emergenze, l'abbiamo visto nelle varie situazioni di emergenza sismica che purtroppo abbiamo passato, lo stiamo vedendo nel Covid quanta fame ci sia di sport, ma non soltanto come un'attività agonistica da portare avanti, ma proprio come bisogno di scaricare le energie negative, di sviluppare endorfine, questa droga naturale che produciamo e che ci rende più sereni, empatici e capaci di vivere il mondo e convivere con il mondo con le tante difficoltà, ma è un bisogno essenziale quello di uscire, di stare all'aria aperta, di fare attività motoria, di prevenire anche tramite attività motoria tutta una serie di patologie metaboliche, cardiache, anche psicologiche, stiamo in una situazione che stavamo al limite, andare avanti ulteriormente senza dare la possibilità di uscire fuori casa e dare quindi la possibilità di fare sport, veramente andare oltre significava mettere a rischio tutta una serie di condizioni psicofisiche e non ce lo potevamo permettere, parallelamente certamente l'economia doveva riprendere, certamente le macchine amministrative dovevano riprendere a funzionare, ci sono una serie di attività, c'è tutto un indotto, c'è un PIL che deve cominciare a rifunzionare, l'alternativa sarebbe la morte socio-economica del nostro paese. Quindi lo sport è una pagina importante di questa ripresa, di questa fase 2, lo può essere in particolar modo in un momento in cui il nostro territorio, un territorio molto particolare che va dalla montagna al mare, consente tantissime possibilità, tanti spazi, penso al verde delle montagne, ai parchi, ma anche al mare sebbene organizzato, chiaramente a livello balneare, ma su questo ci sono dei colleghi che stanno lavorando molto e bene, pertanto arriveremo certamente una soluzione, nel frattempo vediamo che sia per quanto riguarda il golf, per quanto riguarda il tennis, in termini di strutture, perché sono degli ambiti che prevedono degli spazi infrastrutturati all'interno di centri sportivi, sono stati assaliti, una soddisfazione incredibile e il resto degli sport individuali che vengono quindi svolti senza impianti sportivi, quindi stando all'aperto, penso al ciclismo, penso ai ciclamatori, ma penso anche alle formi di corsa, pedonale, jogging ed altro, stanno andando fortissimo e c'è un nuovo equilibrio psicofisico che stiamo raggiungendo, pertanto la misura che dicevi tu quindi è quella di dare una possibilità alle società sportive, in particolar modo quelle che pagano gli affitti per esempio, che pagano gli affitti non nei confronti del pubblico, perché gli affitti nei confronti del pubblico sono sospesi, ma le tante situazioni di pagamento d'affitto nei confronti dei privati, lì non c'è un blocco dell'affitto e li immaginiamo dei contributi a fondo perduto, magari parametrando sia per l'Sd che l'Ssd un ristoro parametrato al bilancio dell'anno precedente, sia per quanto riguarda gli eventi sportivi che venivano fatti, sia per quanto riguarda le spese di gestione delle strutture che si hanno in fruizione, quindi c'è un progetto con una copertura che è stata ipotizzata, una bella copertura che è stata ipotizzata, spero di portare a termine con la forza di una convergenza totale della maggioranza questo tipo di misure che potrebbero dare respiro a quelle energie, a quei tanti sacrifici che chi guida le SD e le SSD mette ogni giorno dell'anno in campo per mantenere viva la propria creatura. Ci sono degli sport, delle discipline che purtroppo hanno chiuso i battenti, come il basket, altre discipline come la pallavolo ipotizzano il ruolo di federazione, magari un svolgimento di competizioni all'aperto affiancando il bici volley, ma è chiaro che poi questo sarà il tempo anche a dirlo. Intanto il 18 maggio avremo un altro step importante perché verrà consentito anche a chi pratica sport e discorso di tornare alla prova del 9. Un'ultima, quali stanno emergendo delle criticità per quello che ha potuto percepire lei anche attraverso questo continuo interlocutore alla pratica sportiva, cioè a livello psicologico per un atleta è un po' complicato magari svolgere attività fisica, però evitare quelle che sono ormai delle abitudini consolidate, abbracciarsi, stringersi la mano alla fine di una partita di tennis piuttosto che darsi il 5, avendo queste limitazioni forse all'idello psicologico questo può avere un impatto anche sulla resa, sul rendimento. Guarda, il contatto fisico è parte integrante dell'aspetto emotivo ed empatico. Chi fa sport lo ha dentro, lo ha nel DNA, lo ha acquisito, costruito nel tempo, in particolar modo per quanto riguarda gli sport di squadra. Io ieri sono stato a verificare la possibilità che hanno portato avanti il mini basket all'Aquila, la prima esperienza a livello nazionale di mini basket fatto all'aperto, hanno diviso degli spazi esterni, quindi ognuno con il proprio pallone, palleggio, tecnica, cambio di direzione, tiro anche al canestro, ma ognuno con il proprio pallone, quindi per evitare contaminazioni. Ma quando ha uno sport imperturbato allo sport di squadra, io diciamo in una vecchia vita ho giocato a calcio per tanti tanti anni, se è uno sport di squadra togli il contatto, togli l'abbraccio, togli la condivisione di un momento, anche con un contatto fisico hai tolto tanta parte del bello dello sport. È evidente che dovremmo cominciare o continuare a convivere con questo tipo di misure fino a che non ci sarà il vaccino, quindi un po' cambieranno le abitudini a 360 gradi e anche lo sport, ahimè, dovrà adeguarsi, spero non per sempre. Certamente chi sta subendo particolarmente questo tipo di misure sono gli sport di squadra e gli sport di contatto. Ho avuto un incontro con 30, sempre in videoconferenza, con 30 maestri di arti marziali, credimi non sapevo cosa dire, perché l'arte marziale per definizione è fatta di contatto e di abbracci o di, chiaramente poi dipende dall'arte marziale, ho detto guardate abbiamo delle difficoltà in questo momento a trovare un equilibrio su golf e tennis, sicuriamoci, sulle arti marziali, quindi vi sono vicino in questo momento soltanto nella possibilità che posso avere di trovare delle esorze economiche per consentire la sopravvivenza, ma dobbiamo aspettare tempi migliori. Certamente noi abbiamo ad oggi la possibilità di riaprire gradualmente e tenendo in considerazione quella compatibilità tra lo sport stesso e le misure di contenimento alcune delle pratiche sportive. Certamente ci sono delle criticità, le criticità maggiori io le vedo nelle palestre, perché? Perché per gestire una palestra senza misura del contagio devo andare ad abbattere talmente tanto la fruizione in termini numerici che rende da portare a essere sconveniente avere una palestra aperta, perché dover avere un terzo delle persone dentro una stanza rispetto al flusso di persone pre-Covid certamente mi porta a una difficoltà di una gestione e a una sostenibilità difficile di una palestra. Poi la palestra è al chiuso, almeno che non riesco a convincere le palestre ad adeguarsi a spazi all'aperto, ma è molto molto complicato per tanti motivi, anche se si sta facendo, perché dopo che si è stati per tante settimane al chiuso tutta questa voglia, soprattutto andando verso la bella stagione di stare al chiuso, non c'è. La bella stagione è nemica delle palestre a prescindere dal coronavirus. Dopodiché altra difficoltà ce l'hanno avuta e l'hanno ancora le piscine. Per un motivo molto semplice le piscine non sono delle piste di atletica che poni le catene al cancello e impedisci l'ingresso. Gli impianti natatori devono essere comunque tenuti in funzione, perché non è che si svuotano le piscine, si svuotano le tubazioni e poi quando si vuole dopo mesi si riprende. Quindi molto spesso devono essere tenuti in funzione, quindi con un dispendio ulteriore di energie, pagamento ulteriore di utenze. Magari non si tiene calda la piscina a 25-27 gradi, ma almeno a 12 li devi portare. I tubi vanno comunque tenuti sotto pressione, perché altrimenti bisogna ricostruirle tutte da capo una volta che si lasciano non utilizzate. E anche qui si va verso una stagione calda che di solito non combacia con un utilizzo delle piscine, se non quelle all'aperto, che sono però una minoranza della minoranza. sono poche le strutture che consentono anche la piscina all'aperto di quelle così organizzate, fruite durante tutto l'anno. Quindi su questo ci stiamo basando, provando a parametrare gli aiuti che possiamo dare allo sport abruzzese, andando a toccare e a curare le ferite di chi sta subendo maggiormente l'impatto e le conseguenze negative delle misure di contenimento del coronavirus. Speriamo di essere esaustivi. Lo facciamo riducendo al minimo l'errore con l'ascolto. Noi, Assessore, la ringraziamo per la sua cortese disponibilità e anche per gli argomenti che abbiamo trattato. Torneremo sicuramente a parlarne quando magari questa proposta sarà portata all'attenzione dell'Assemblea della Giunta e poi dell'Assemblea legislativa. Con questo auspicio salutiamo i nostri amici social. Alla prossima puntata. Grazie. Grazie a tutti. Arrivederci a tutti e grazie a voi. Bene. Beh, direi che è stata bene. Ok.